Benvenuti su Ultima Hora News. Nel video di oggi parleremo della dura risposta di Ida Platano agli insulti e alle prese in giro per la malattia di cui soffre. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Ida Platano ha affrontato nuovamente le critiche dei suoi haters sui social, parlando apertamente della sua malattia. La dama del trono over di uomini e donne è stata costretta a rispondere agli insulti riguardanti le sue gambe, mostrate in una foto in costume durante una vacanza in Liguria. Alcuni commenti offensivi includevano frasi come «le caviglie zamponi le copre sempre» e «lei ha i caviglioni, le gambe sono tutte un pezzo». Ida ha risposto con fermezza, dichiarando «Voglio dirvi che le mie gambe, che vi piacciano o meno, sono così, da sempre». «Soffro di una patologia e in tutti questi anni, il mio lavoro non ha migliorato la mia condizione, se vi fa piacere e vi fa stare bene mettere il dito nella piaga, fate pure, ma tanto non cambieranno, credetemi, le gambe saranno sempre così, grosse». Nonostante le critiche, Ida non ha permesso che questi attacchi le rovinassero la vacanza, infatti, non è la prima volta che si trova a dover rispondere agli haters. Già in passato aveva ricevuto insulti simili, ma ha sempre cercato di mantenere la calma e di rispondere in modo educato, la sua forza e la sua determinazione le hanno permesso di superare questi momenti difficili, continuando a godersi la sua vita e il suo lavoro. Ida ha anche sottolineato l'importanza di non lasciare che le critiche influenzino la propria autostima, ribadendo che la sua condizione medica è qualcosa con cui ha imparato a convivere e che non permetterà a nessuno di farla sentire meno sicura di sé. Infine, ha concluso il suo messaggio esprimendo il desiderio che le persone imparino a essere più comprensive e meno giudicanti nei confronti degli altri, specialmente quando si tratta di questioni di salute. Il sostegno dei suoi fan e amici è stato fondamentale per lei, aiutandola a mantenere una prospettiva positiva nonostante le difficoltà. E tu cosa ne pensi delle parole di Ida Platano? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.